Grazie a tutti. 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 No, no, per tu, la signora, no, no, no. Senta, piuttosto, non è che per caso ha visto là in casa la polizia. Ma che è sottaggio? Ma che è sottaggio? Non era una cosa, ricorda. Ah, senta. Non è che in casa ha visto anche una coppia del corriere? Ma non ci sta nessuna coppia del corriere? Ma poi io lo vedo, ma che ti fa? Ah, va bene. Ah, va bene. Beh, è venuta una laccia, una laccia giuntissima. Senta, le vetture, è una cortesia da fare. Allora, se dovesse rientrare il signor Finocchio, e gli dovrebbe venire, cortesemente, che ha telefonato il colono. Chi ha chiamato? Il colono. 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 Il colono.